Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un tragico incidente a Roma, perdendo il controllo del suo scooter sul curvone di Via del Muro Torto. La vittima è Federico Urilli, 30 anni, nato a Tivoli, aveva studiato medicina all'Università di Tor Vergata ed era un medico specializzato di chirurgia vascolare al Policlinico Umberto I. Era impegnato nella vita universitaria ma anche nel volontariato con il club Rotoract di Tivoli. La polizia locale ha eseguito i rilevi del caso per stabilire le cause del sinistro, essere fatale forse l'asfalto bagnato, fra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell'Università, la Sapienza. Grazie.